Una qualche lezione. Gli spiriti di Getalsa, Biagio Filardi. Quando un essere umano viene al mondo è già stabilita con esattezza la data della sua morte, chiesi a Rem. Da più di un anno frequentavo Getalsa e consideravo ogni incontro l'occasione per ricavarne una qualche lezione, la risposta ai quesiti che non potevano avere soddisfazione altrove. Che tempi strani! Andiamo nello spazio senza avere compiuto un solo passo nella scienza spirituale dai tempi dei nostri avi, e anzi, in quella siamo magari regressi. Ebbi due risposte. Parevano in contraddizione. Quando invece si trattava di andare a due livelli di comprensione. Quando nasce una pianta non è la terra che la fa spuntare. È il seme che succhia il nettere vitale dalla terra. Il seme germoglia in terra. Vi entra come dentro un utero che lo concepisce. E nel seme c'è già la pianta che sarà. Getta il seme di un garofano in un prato di papaveri. Quello benché orgiato dai papaveri, diventerà garofano e nient'altro. C'è già nel seme quel che sarà. Una volta concepiti, occorrerà solo crescere e diventare. Ecco l'unico compito. Entrando nella vita, si gode di una pseudo-libertà. L'illusione che vigge fra lo spirito e la materia. Così, mentre l'individuo cresce, vive, sperimenta, si generano, man mano, cause e con cause. E all'improvviso si altera ciò che era previsto. Come per esempio la qualità della vita e la sua durata. Lungo il percorso vitale possono capitare quelle che sono chiamate accidentalità. Oppure, l'iniziazione dell'individuo può mutare il proprio karma fino a contraddirlo. Questa è una risposta. Però, mentre l'uomo era nell'ade e il suo io trascendente già conosceva come un fatto rivelato, ciò che in vita gli sarebbe capitato. Poi avvenne la seconda morte. Cascò nella vita dietro il velo della dimenticanza. La precedente personalità si disgregò. È un altro essere nacque. Ad ingannarvi è il tempo. Poiché tempo, spazio, moto, materia, fanno l'illusione dell'imprevedibilità. Ma se trasferiste la coscienza fuori dell'organo cerebrale, allora vedreste passato, presente e futuro comparire espressi sullo stesso asse. Lì e soltanto lì sarebbe possibile comprendere, scindendo la predestinazione da quel che invece è la correzione degli eventi. Rimane dunque il fatto che prima di reincarnarsi, già tutto quello che accadrà in vita è rivelato fino al momento dell'ultimo respiro.